Musica Nuovo regionalismo per uno stato più moderno. Questo l'argomento al centro del dibattito del nuovo appuntamento della Scuola di Formazione Politico-Amministrativa di Forza Italia intitolata Domenico Gasparri. All'incontro erano presenti tra gli altri i parlamentari azzurri Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliarillo. Questo appuntamento cade in un momento cruciale, è stato un fatto casuale per la verità perché proprio in questi giorni si discute a livello nazionale della definizione dei rapporti di potere e di governo dello Stato centrale e delle regioni sulla spinta di alcune regioni del nord che hanno realizzato dei referendum, che hanno scandito con grande forza le loro posizioni che vogliono valorizzare l'autonomia. Ma noi riteniamo che tutto questo non avverrà a scapito del sud e noi ne siamo garanti anche come forza politica, come forza Italia. Bisogna esaltare il meglio delle capacità di governo di ciascuno ricordando che anche nel sud ci sono state occasioni storiche. La Sicilia ha avuto lo statuto di autonomia ancora prima di altre regioni o di riforme che hanno esteso le forme di autonomia. Non sempre l'ha utilizzato al meglio probabilmente, quindi non è che il sud debba essere considerato un peso per un nord ricco e quindi svantaggiato da un'autonomia. Stiamo affrontando come forza Italia una formula che consenta di garantire i diritti di tutti. E che ad esempio al sud veda esaltato quell'impegno per le infrastrutture che riducano quel gap che c'è. E anche un recupero di capacità nelle gestioni, penso alla sanità, dove oggettivamente a fronte di costi elevati non sempre le prestazioni sono state elevate. Altre regioni hanno dimostrato un maggiore virtuosismo. Quindi una sfida da affrontare senza piangersi addosso, ma sapendo che nel sud ci sono storia, tradizione, culture antiche, forti, radicate che possono affrontare una spinta nuova verso una maggiore autonomia rispetto a questa esigenza di riforma. Del resto i territori rivendicano poteri, capacità di decisioni. Io poi ritengo che per fare da collante a questa aumentata autonomia il tema del presidenzialismo dovrebbe tornare. Io credo che le regioni siano state fondamentalmente, queste regioni, un fallimento e che oggi siano nel limbo. Io credo che noi dovremmo andare a un nuovo ordinamento per cui magari si possano immaginare regioni più grandi, macro regioni, che facciano programmazione e poi si possa immaginare un livello intermedio, che è quello delle province, che si è cercato di farle fuori e ci si è accorti che non è possibile. Allora io penso che il ruolo delle regioni debba essere rivisto in una riorganizzazione complessiva dei livelli amministrativi, partendo dai comuni e finendo alle macro regioni. Tra i relatori, anche Stefano Caldoro, già governatore della Campania fino al 2015, è fresco di nomina quale responsabile nazionale del Dipartimento Autonomie di Forza Italia. La battaglia dell'autonomia è una battaglia di tutta l'Italia, non è una battaglia solo del sud. Anzi, il sud ha tanto da guadagnare. Il nord fa le sue battaglie, la Lombardia e il Veneto vogliono maggiore forza, maggiori poteri. Questo è anche corretto. Se però questo non è al discapito del sud, anzi, se è un modo per riequilibrare le risorse. Questo è il punto della battaglia politica. Poi ognuno, se ha le gambe forti, se dimostra di essere il più bravo, è giusto come nella vita, chi è più bravo deve andare più avanti, nessuno deve fermare il più bravo. Però bisogna fare in modo che chi ha bisogno ci sia il principio di pari opportunità per tutti, ecco, e di solidarietà nazionale. Il prossimo appuntamento con la Scuola di Formazione di Forza Italia è in programma venerdì 25 gennaio, sempre all'Holidein di Cava dei Tirreni. Per il futuro, per il futuro, nella prossima lezione ci sarà la proiezione del film sulle foibe, Istria di Rosso, quindi è un grande film, un film un poco duro, ma rispecchia la realtà della storia degli infobbiati nei confini a Trieste-Trento, quindi è una bella esperienza da far vedere soprattutto ai ragazzi e ai giovani che delle storie delle foibe non conoscono nulla.